Buongiorno, 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 prego, rispondiamo, io devo capire bene ciò che ti hanno detto e se non tu hai capito Fai domande, prendi rispondi. E prima di criticare un altro, vi ho di fare un bel esame di coscienza di bandetto su di te. E prima di decidere una cosa, pensi, è le conseguenze che verrà la scelta che tu fasi. E prima di fare il male che di solito al Samedi fa bene, non pensi che tutto sei fatto per fare il bene e che facendo male tu tradisci prima di tutto te stesso. Prima di renditi, vedo che si puoi tornare a tentare. E prima di morire, vedo di vivere. Allora, il 5 di settembre, non state a dismentearsi, visite cui che si è sposato a Planelis che ha animis, ovviene a Undis, domenio 5 di settembre, la messa per tutti chi si sono sposati dal santuario. Buone giornate e buone vite!